la casa di eld non appena il bimbo cominciava a parlare saldavano l'anello e i ragazzi e le ragazze zoppitavano come galeotti quando giocavano senza dubbio era cosa più pietosa da vedere e più dolorosa da sopportare in gioventù ma anche gli adulti oltre a star molto male in gamba erano spesso malati di ulcere quando jack aveva dieci anni molti stranieri cominciarono a viaggiare per il paese ed egli li vedeva camminare leggeri sulle lunghe strade e la cosa lo stupiva mi domando come mai chiese tutti questi stranieri hanno i piedi tanto leggeri e noi dobbiamo trascinare la nostra catena caro ragazzo gli disse suo zio il catechista non ti lagnare della tua catena perché è la sola cosa che renda la vita degna ad essere vissuta nessuno è felice nessuno è buono nessuno è rispettabile se non è inceppi come noi e per di più ti debbo dire che è un discorso molto pericoloso se ti lamenti del tuo anello non avrai fortuna e se te lo togliessi saresti colpito sull'istante da un fulmine non ci sono fulmini per questi stranieri domandò jack giove è tollerante con chi ha l'intelletto tenebrato rispose il catechista parola mia vorrei essere stato meno fortunato disse jack perché se fossi nato tenebrato potrei camminare libero e non si può negare che il ferro sia scomodo e che l'ulcera dolga esclamò suo zio non invidiare i miscredenti la loro sorte è ben triste povere anime potessero conoscere le gioie dell'essere incatenati povere anime il mio cuore spasima per esse la verità è che sono vidi odiosi insolenti malfatti fetidi bruti non sono veramente umani e cos'è l'uomo se non è in catene e non potrai mai stare troppo attento a non toccarli e a non parlare con loro dopo questo discorso il ragazzo non passava mai davanti a uno degli uomini senza catena sulla strada senza sputarli addosso e oltraggiarlo e questa era l'abitudine dei ragazzi di quelle parti accadde che un giorno quando aveva 15 anni adò nei boschi e l'ulcera gli doleva era una bella giornata col cielo azzurro tutti gli uccelli cantavano ma jack si curava il piede poco dopo cominciò un altro canto pareva quello di una persona ma molto più allegro e allo stesso tempo si sentiva battere sulla terra jack scostò le foglie e vide un ragazzo del suo villaggio che saltava e danzava e cantava tutto solo in una verde valletta e sull'erba vicino a lui era il suo anello di ferro oh esclamò jack ti sei levato l'anello per amor di dio non lo dire a tuo zio esclamò il ragazzo hai paura di mio zio rispose jack come mai non hai paura del fulmine non è che una storiella da femminucce disse l'altro è cosa da raccontare ai bambini veniamo qui a ventine nei boschi e danziamo per notti intere e non per questo ce ne troviamo peggio questo fece nascere mille nuovi pensieri nella mente di jack era un ragazzo serio non aveva voglia di danzare portava da uomo la sua catena e curava la sua ulcera senza lamentarsi ma gli piaceva meno essere ingannato o veder gli altri truffati cominciò a mettersi ad aspettare i miscredenti in parti nascoste nella strada e sull'imbrunire in modo da poter parlare con essi senza essere veduto e questi si interessarono molto del loro interlocutore e gli dissero cose di gran peso portare catene dicevano non era comando di giove era l'invenzione di un essere dal viso pallido uno stregone che abitava in quel paese nel bosco di eld era uno che come glauco poteva cambiare forma eppure rimanere sempre riconoscibile perché quando andava in collera faceva glu glu come un tacchino aveva tre vite ma il terzo colpo sarebbe stato certo la sua fine e con quello la sua casa stregata sarebbe svanita i ceppi sarebbero caduti e gli abitanti del villaggio si sarebbero presi per mano e avrebbero danzato come bambini e nel vostro paese domandava jack ma queste parole viaggiatori tutti d'accordo non rispondevano più finché jack cominciò a supporre che non vi fosse terra del tutto felice o se c'era doveva essere quella che tratteneva presso di sé gli abitanti e questo era abbastanza naturale ma il caso dei ceppi gli pesava sul cuore la visita dei bambini inzoppicanti gli rimaneva negli occhi i lamenti di quelli che si sfasciavano le piaghe lo tormentava e alla fine gli venne il pensiero d'essere nato per liberarli c'era in quel villaggio una spada di fattura divina battuta sull'incudine di vulcano non era mai usata se non nel tempio e anche allora solo dalla parte del piatto ed era pesa un chiodo presso il camino del catechista una notte di buon'ora jack salzò prese la spada e se ne andò dalla casa e dal villaggio nell'oscurità tutta la notte camminò all'avventura e quando venne il giorno incontrò degli stranieri che andavano nei campi allora domandò del bosco di eld e della casa stregata e uno disse a nord e uno disse a sud finché jack vide che lo ingannavano perciò quando chiese il cammino a un uomo gli mostrò la spada lucida e ignuda e allora l'anello che era alla caviglia dell'uomo risonò e rispose in sua voce e la parola era sempre avanti ma l'uomo quando il suo anello parlò sputò addosso a jack e lo percosse e gli buttò delle pietre mentre se ne andava e gli andò nel bosco e vi entrò e vede una casa in una bassura dove crescevano i funghi e gli alberi si incontravano e i vapori della palude vi salivano intorno come un fumo era una bella casa e molto regolare alcune parti di essa erano antiche quanto i monti e alcune del giorno avanti e nessuna era finita e da ogni lato era aperta così che si poteva entrare da ogni parte eppure era in buono stato e tutti i cammini fumavano jack entrò per l'abbaino ed ecco una stanza dopo l'altra tutte ignude ma tutte immobiliate in parte sicché un uomo ci avrebbe potuto abitare e in ognuna di esse c'era un fuoco acceso al quale ci si poteva scaldare e c'era una tavola apparecchiata alla quale si poteva mangiare ma jack non vede in nessun luogo una creatura viva soltanto qualche corpo impagliato questa è una casa ospitale disse jack ma il terreno deve essere melmoso qui sotto perché a ogni passo l'edificio trema sotto i piedi aveva girato per qualche tempo in quella casa quando cominciò a sentir fame e allora guardò i cibi e dapprima ebbe paura ma snudò la spada e al brillar della spada parve il cibo fosse onesto così si fece coraggio e si mise a sedere e mangiò e così fu rinnovato di corpo e di mente questo è strano pensò che nella casa stregata ci siano cibi tanto buoni e stava ancora mangiando quando in quella stanza comparve il fantasma di suo zio e jack ebbe paura perché aveva preso la spada ma suo zio non era mai stato più cortese e si dette a mensa con lui e lo lodò di aver presa la spada quei due non erano mai stati così volentieri insieme e jack si sentiva pieno d'amore per quell'uomo hai fatto molto bene disse lo zio a prendere la spada e a venire nella casa di eld un buon pensiero e una coraggiosa azione ma ora che hai avuto soddisfazione possiamo andarsene a casa a pranzo sotto braccio oh no davvero disse jack non sono ancora soddisfatto come esclamò lo zio non ti sei scaldato al fuoco questo cibo non ti sostenta ma accorgo che questo cibo è buono disse jack ma non è una prova che l'uomo debba portare un anello di ferro alla gamba destra e a queste parole il fantasma dello zio fece glu glu come un tacchino per giove esclamò jack è questo lo stregone a sua mano si ritraeva e il cuore gli mancava per l'amore che portava allo zio ma levò la spada e percosse il fantasma sul capo e il fantasma gridò forte con la voce dello zio e cadde a terra è una piccola cosa senza sangue volò via dalla stanza il grido risuonò alle orecchie di jack e le sue ginocchia assurtavano e la coscienza lo rimordeva pure si fece forza e nel suo sangue si destò il desiderio del sangue di quell'incantatore se le catene debbono cadere disse debbo terminare l'impresa e quando arriverò a casa troverò lo zio che danza perciò seguì la cosa senza sangue nell'andare incontrò il fantasma di suo padre e suo padre era in collera e lo sgridò e lo richiamò al suo dovere e gli ordinò di tornare a casa finché c'era ancora tempo perché ancora gli disse puoi essere a casa prima del tramonto e allora tutto sarà perdonato io sa se temo la tua ira disse jack eppure la tua ira non prova che l'uomo debba portare un anello di ferro alla gamba destra e a queste parole il fantasma di suo padre fece glu glu come un tacchino oh cielo esclamò jack ancora lo stregone il sangue scorreva ritroso nel suo corpo e le giunture si ribellavano a lui per l'amore che portava al suo padre ma levò la spada e trafisse il cuore del fantasma e il fantasma grida forte con la voce di suo padre e cadde a terra è una piccola cosa bianca senza sangue volò via dalla stanza il grido risuonò negli orecchi di jack e l'animo suo fu oscurato ma ora il furore venne su di lui ho fatto cosa alla quale non oso pensare disse l'ulterò alla fine o perirò e quando arriverò a casa prego dio che questo possa essere un sogno e che io possa trovare mio padre che danza così seguì la cosa senza sangue che era fuggita e nell'andare trovò il fantasma di sua madre ed essa piangeva che hai fatto gli gridò che cos'è questo che hai fatto oh vieni a casa ci puoi arrivare prima che sia l'ora di andare a letto prima di far dell'altro male a me ai miei perché quanto basta aver colpito mio fratello e tuo padre cara mamma non sono loro che ho colpito disse jack ma soltanto l'incantatore che aveva preso il loro aspetto e seppure l'avessi fatto questo non proverebbe che l'uomo deve portare un anello alla gamba destra e a queste parole il fantasma fece glu glu come un tacchino non seppe mai come lo facesse ma vibrò la spada da una parte e trafisso il fantasma e questo grida forte con la voce di sua madre e cadde a terra e quando cadde la casa sparì e jack si trovò solo nei boschi e l'anello non era più al suo piede bene disse ora l'incantatore è morto e la catena se n'è andata ma le grida li suonavano nell'animo suo e il giorno era come notte per lui è stata una dura prova disse ora uscirò dal bosco e andrò a vedere il bene che ho fatto agli altri pensava di lasciare l'anello dov'era ma quando si volse per andare cambiò idea così si chinò e si mise l'anello nel petto e il rozzo ferro lo tormentava nell'andare e il quando uscì dal bosco sulla strada maestra trovò la gente che tornava dai campi e quelli che incontrava non avevano l'anello alla gamba destra ma guarda ne avevano uno alla sinistra jack chiese loro che cosa volesse dire ed essi dissero che quella era la nuova maniera di portarlo perché avevano capito che l'altra era una superstizione allora li guardò da vicino e c'era una nuova ulcera alla caviglia sinistra e l'antica sulla destra non era ancora guarita che dio mi perdoni esclamò jack vorrei poter essere a casa e quando giunse a casa trovò lo zio colpito alla testa e suo padre trafitto al cuore e sua madre col petto squarciato e sedette nella casa solitaria e pianse presso i cadaveri morale vecchio è l'albero è buono il frutto molto vecchio è fitto il bosco boscaiolo sei coraggioso bada la radice ravvolta al cuore di tua madre alle ossa di tuo padre e come la mandragola si lamenta se la strappi